Cresce in città l'attesa per l'arrivo della Dinamo Sassari che a martedì prossimo sarà a Nuoro per contendere il trofeo meridiana alla formazione turca del Galatasaray Istanbul. Una sfida che richiama il grande basket internazionale che sarà ospitata a partire dalle 20.30 nella palestra dei Salesiani nel rione di Fontana Buddia. I cestisti sassaresi saranno ospiti della Iknos Basket di Nuoro che ha promosso l'evento col supporto di Kone e Feder Basket provinciale. Per gli appassionati nuoresi, molti dei quali durante il campionato si spostano a Sassari per seguire le avventure della Dinamo, sarà l'occasione per vedere all'opera la compagine fortemente rinnovata ma che vuole rimanere ai vertici del basket italiano. Sulla panchina il presidente Stefano Sardara ha confermato Federico Pasquini che nella passata stagione, contrassegnata dalle zone aero del coach Umeo Sacchetti, ha preso in mano le redini della squadra portandola dopo un avvio difficile nei play-off. L'anno scorso, con i galloni di campioni d'Italia, la Dinamo affrontò nella palestra a Cune di Via Lazio la E-Cup Atene, una gara valida per il trofeo Tirrenia che i sassaresi si aggiudicarono superando in volata al termine di una gara molto combattuta i greci col punteggio di 78-72. Quest'anno la sfida con il Galatasaray pone la Dinamo di fronte ai campioni d'Europa, visto che i turchi hanno recentemente conquistato l'Euro Cup. E il pubblico onorese, ma non solo, non farà mancare certo il suo caldo tifo a favore della Dinamo Sassari, una formazione che ormai ha superato i confini cittadini per diventare una bandiera dell'intero sport sardo.